Sì, sono soddisfatto prima per fare l'esordio dall'inizio e anche perché abbiamo vinto, che era quello che abbiamo cercato. E questa coppia con Cyril Terò, che comunque avete dialogato molto bene, in occasione del gol l'ha iniziata durazione e poi l'ha rifinita Cyril per Badu, i meccanismi vanno bene? Sì, sì, Cyril, sapevamo tutti che classe giocatore è, io mi trovo molto bene con lui, penso che anche lui con me, ma speriamo di dare più soddisfazione alla squadra, che è la cosa più importante. Oggi hai anche cercato il gol personale, ti ha fermato Moisander su una bellissima azione, però c'è stata anche una buona mole di occasioni, avete creato molte occasioni da gol, forse però purtroppo qualcuno era da concretizzare. Sì, sì, abbiamo avuto l'occasione, tanto come io, anche Terò, ma penso che è il più importante che abbiamo vinto e siamo tutti contenti per questo. C'è Felipe nel frattempo dietro le telecamere che cerca di distrarre Aguirre, che rimane invece concentratissimo. Oggi tra l'altro si è fatto un bel salto in classifica, abbiamo messo dietro un paio di squadre, ha guantato anche Palermo ed Empoli, ci volevano proprio questi tre punti per prendere un po' d'ossigeno. Sì, sì, era importantissimo, ma non possiamo molare nulla perché ancora non abbiamo vinto niente, però certo che vincere contro una squadra così importante come è stata la Sampdoria ha dato un po' di fiducia per lavorare e adesso pensiamo solo a Chievo. Appunto, si pensa al Chievo Verona, ti faccio una domanda tra virgolette scomoda, vuoi essere ancora titolare lì davanti, lavorerai ovviamente sodo per essere. Sì, sì, penso che tutti i giocatori abbiano la voglia di giocare, ma quello lo decide il mister, qualsiasi che giochi darà sempre il massimo per vincere. Grazie.